Ciao a tutti e bentornati sul canale di Vitale Io sono Vitale E io Anita Oggi nuovo episodio di Pokémon Let's Go Pikachu Ieri abbiamo terminato con la Sealspa E abbiamo battuto Sabrina nella sua palestra Oggi andiamo all'isola Cannella E proveremo a trovare il nuovo capopalestra Siete pronti? Cominciamo subito Un regalo per me Più bella Ma prima di qualsiasi utilità non ha alcun effetto Eccolo Che tenerina Grazie per il regalo Allora abbiamo deciso di tornare a Biancavilla E provare a fare surf da Biancavilla Per raggiungere l'isola Cannella Vediamo se ci riusciamo Perché da Fuxiapoli non riesco ad arrivare Tutto chiuso E nemmeno da quella grotta Quindi proviamo da qua Percorso 21 Ok Ah ma ci sono queste isolette Con questi allenatori Bene forse allora siamo nella strada giusta Siamo nella direzione giusta Con Magikarp Magikarp ovviamente Spuntano ovunque Ecco il polpetto Forse era proprio qui Aiuta Perché non insegue ogni volta Quindi Sarà qui? Ce l'abbiamo fatta Penso Isola Cannella Isola Cannella Vediamo Vediamo un po' cosa c'è qua Cos'è questa musichetta? Oddio ma è piena di Pokémon Oh Slime ci manca Aspetta Prendiamo Slime Prendiamolo Prendiamolo Ah finalmente è un nuovo Pokémon Che possiamo catturare Slime Non lo possiamo fare verde Tipo Aspetta Vabbè Ormai Volevo cambiare Pokémon Via Era scappato Ma siamo riusciti Vediamo Con la vibra Sì fa pure i rumori No È scappato Aspetta che cambi la sfera Ok In una Ultra Ball Dai Proviamole Vediamo No È scappato di nuovo Ma come Dobbiamo lanciargli Della soluzione Per lenti bicarbonato 3 2 1 Via Forza Dai Slime Proveto che ti tratterò bene Sì Preso Sì Abbiamo Slime Ci siamo sempre dimenticati Di leggere Le curiosità Sui Pokémon Che appaiono nel Pokédex Formato da funghi tossici Solidificati Fanghi Fanghi Formato Formato da funghi tossici Solidificati Emana un tanfo Nausea Bond Ed è impossibile Toccarlo Dove passa lui Non cresce più Nemmeno l'erba Oddio Mi dispiace Chiamarlo Slime Perché Lui è veleno Slime Ammuffito Magari Cioè in pratica Questo posto è pieno È pieno di Pokémon Strani però Chissà che cos'è questo posto Ah ci vuole un pass qui per entrare Sicuramente poi dovremmo fare qualcosa qua Va bene scappiamo Ho visto che ci sono delle scale qui ma non sono sicuro che È indemoniato questo posto Non so se andare Ma sì Un po' inquisante Sì Oh quello mi manca Aspetta Questo Questo rosso Yeah Sì Nuova cattura Non mi ricordo Un po' Ah magmar Via Oh vedi Dai se non lo prendiamo adesso Veramente Presa Ah Quante Ultra Ball Che ho sprecato È diventato rosso Vediamo la sua curiosità Uff Ce l'ha voluto Sì Ma almeno abbiamo un nuovo Pokémon Livello 46 Dai non male È nato nel cratere di un vulcano Il suo corpo interamente coperto di fiamme Sembra una palla di fuoco Un palla di fuoco Che strano questo posto Un altro lì Attenta Attenta Ma è venuto proprio contro di noi Cioè prima non ti fai catturare E poi vieni Questo era pure piccolo È forte però guarda che livello Wow Allora qua finché non riusciamo ad aprire le porte Non possiamo fare molto Quindi direi di andare Vedi nella Pokéball Non so se c'è qualcosa Ultra Ball Ultra Ballà Mi serviva Direi di andare via da qua Ah dici continuiamo Esploriamo l'isola Cannella Un po' dobbiamo ritornare qui sicuramente Sì Ok Allora Questa è la palestra Che dice andiamo già a sfidare il capo palestra Ma sì proviamo E poi facciamo un giro Sì proviamo prima a sfidare il capo palestra Ok Oh ma qua Che carino Ah è piccolissima Ma non è che adesso questa qui se la metti sulla mappa stiamo tipo dall'altra parte dove dovevamo andare noi Sicuramente si arrivava da lì ma non so come Va bene andiamo a sfidare il capo palestra allora Il capo palestra avrà Pokémon di tipo fuoco Quindi via noi basta usare Pokémon di tipo acqua quindi vediamo com'è fatta questa palestra Spero non ci sia un altro labirinto Ma è una palestra Forse mi sono sbagliata Che cos'è Spesso ci portano dei Pokémon rari da esaminare Datteli a me Dattemeli qualcuno Sei venuta a visitare il nostro laboratorio? Ammirevole La scienza è importantissima Questo divano è morbidissimo Anche questo divano è davvero morbidissimo Sono un po' strani Questa è la sala riunioni Quando ci sono degli ospiti li portiamo qui E quando non ci sono Non li portiamo Ci rilassiamo su questi comodissimi divani Molto morbidi Sono gli divani più speciali di tutta la storia di Pokémon Andiamo a chiedere a questo Perché a me non piacciono i divani invece Resto qui in piedi tutto il giorno Ho trovato uno strano fossile sul Monte Luna Penso si tratti di un raro Pokémon preistorico Anche noi abbiamo un fossile ti ricordi? Sì l'abbiamo preso a quelli del Team Rocket no? Sì però non so che cosa dobbiamo farne Altre scienziati quanti Ok non ho voglia di parlare con tutti Mi diranno questa sedia è molto comoda Stare troppo a lungo davanti al piccista anche agli occhi Meglio farli riposare ogni tanto Ci sono dei comodissimi divani Due stanze qui e là Grazie per l'importante consiglio Salve sono uno studioso importante Sai? Molto importante E mi occupo di fossili di Pokémon Io ne ho uno Hai qualche fossile da farmi vedere? Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Omanite Omanite Un pokemon estinto molto tempo fa Lo rigenererà con la macchina Rigenera pokemon ok Si Presto da qua Lo dice anche il gioco che è strano In pratica dal fossile sta rigenerando Il pokemon antico che era stato estinto Tanti anni fa Ce l'ho fatta proprio come previsto Dal fossile che mi ha dato ho rigenerato un omanite Si Abbiamo un nuovo pokemon quindi Si antico Vediamo un po' La lumachina che carina Pokemon preistorico Rigenerato da un fossile Nuotava nei mari primordiali Agitando con maestrile sui dieci tentacoli E di tipo roccia e acqua Vediamo che livello è Magari ci serve proprio contro il capo palestra Torna quando vuoi e dice Quindi se questa non è la palestra Qual è la palestra? Blaine della palestra dell'isola Cannella E' un uomo strano che vive qui da prima Che fosse costruito in laboratorio Ma dov'è? Dobbiamo trovarlo allora Forse è questa Sì Allora vediamo a che livello è Il pokemon che ci hanno appena dato Magari lo possiamo usare 44 Lo mettiamo in squadra Ah si mettilo subito dai Al posto di qualcuno di fuoco Al posto di Rapidash per ora Si Mi dispiace rimuovere Rapidash L'ho anche tolto dal bowl per vedere un po' com'è Bene Non so quanto sia grande Vediamo Sarà un minuscolino Un piccolino Un piccolino Un piccolino Un piccolino come striscia nell'erba L'erba è troppo carino Che bello Bene siamo pronti ora ad affrontare il capo palestra Vediamo se c'è qualche enigma Ma non si apre Sulla porta c'è scritto qualcosa in piccolo Domanda Dove si trova la chiave Di questa palestra Indizio Cercate in un edificio coperto Da piante rampicanti Quindi iniziano gli enigmi Quindi Pianta rampicanti è questo Questo dovremmo prima Lo sapevo Entriamo Dobbiamo per forza esplorare questo posto maledetto Questo posto inquietante Dobbiamo trovare la chiave quindi Proviamo al piano di sopra Anche la musichetta inquietante Sì A che parte dobbiamo andare Qua c'è uno che allena i pokemon Nooo Ci doveva prendere per forza Questo posto è gigantesco ho detto Bene Questo non mi rassicura per niente Lo scassinatore Scassinatore Magmar Ah Ah bene che abbiamo dei pokemon di tipo acqua Così lo sconfiggiamo subito Vediamo un pokemon se ha il nostro Omanite Idropompa Perfetto Tu puoi usare Il gelo a raggio no? Eh no ci vuole una musichetta di tipo A Ah Ah Mi ricordo che artico 1 C'era questo però si vai con il gelo a raggio Non lo so perché mi ha scelto tossino la pokeball Eh la sarà stata proprio la pokeball Averlo scelto no? Sì Non tu No l'ha scottato già No poverino Idrapompa Uh guarda che forte questa lumachina Wow Wow Sembra una lumachina tanto carina e piccolina Invece poi È potentissima Poverino L'ho scottato No Ce l'avevo un altro Slime Allora Slime Veleno lui no? Sì io provo con frana Non so se avrà effetto di tipo terra Tu vai con il gelo a raggio lo stesso Non tanto No No povero womanite Non ha molto effetto però Non so che mosso usare Uso idrapompa Prova Magari gli dai una bella ripulita Visto che è fango effettivamente Eh volo sì Ah quindi io ho evitato l'attacco Sì perché si Hai volato Ah quasi Quindi forse ce la faccio Io vado con sassata A posto Yeah Abbiamo sciolto lo slime Gli occhiali sporchi Allora vediamo se questa è la cassa La chiave anche se dubito che sia così facile trovarla Caramella rara Vabbè meglio di niente Vogliamo provare a mettere un po' di repellente Volevo vedere se c'era qualche altro pokemon che non ho mai catturato Ah è vero è vero Comunque qua non c'è niente Quindi sì qua non c'è niente Ah un altro ratata Gli sta di sì che usiamo il repellente Ok repellente usato Prova su queste statue con gli occhi che si illuminano Click Hai provato un bussato segreto Bravo Qualcosa si è mosso Però non riesco a riuscire io adesso Stai attenta Ecco Chi è questo? Vediamo cos'è questo? Cinque baccalampone Finalmente Proviamo a evitarlo Sì Nooo Peccato Ok proseguiamo Lì c'è una porta Un 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 trasporter Attenta Ma è un bambino Sì è quel bambino Questo trasporter Entriamo Sì Mettiamo dove si porta Fuori Oh Non ci credo Ci ha trollato alla grande No vabbè Rientriamo Tutto da capo Allora risaliamo su da qui Qua dobbiamo andare Sì E ora dobbiamo salire Adesso non mi ricordo se la statua stava qui Sì Qua ce n'è una Ah ma è già Era già Tutto a mano Ah Aspetta Non devo scendere no? No perché Sì Allora ci affronterà Maledetto Una volta il maestro viveva qui Che maestro? Il maestro Quello che ha aperto la palestra No? Ah Blaine Tre Pokémon Tre Quelli che odi di più Quello buttone Gli scureggioni No I due scureggioni Che dici Questo Pokémon Non andrà bene per me? Io non so Proprio Contro questo tipo di Pokémon Veleno Tipo normale Non so mai Che cosa è Fuoco mi sa Fuoco e elettro Non lo so Provo con un geloraggio Non so perché Mi è partito frustato Tra l'altro Mi sono dimenticata Che avevo Quel Pokémon Oh bene Avevo quel Pokémon Di tipo lotta Ah peccato No Mi ne ha fatto così niente Che aveva Pugno di gelo Pugno elettro E chi era? Eh l'avevo tolto Dalla squadra E mi ero dimenticata Di rimetterlo Era Hitman lì Mi sembra Ma è vero E ora ormai Sarà Pollo Perché era A livello 34 Mi sembra E ovviamente Quando non sono in squadra Non crescono Di livello No Ahia Qua ci vorrebbe Una mossa Di tipo Acqua Che dici Cambio Pokémon Dai E io che faccio? E dopo un Dugong Eh il tuo è un po' A rischio Però Forse riesco A batterlo Subito Usa Reduttore Aia Nooo E' super efficace Però mi sa che è riuscito Sì Wow Riuscito anche a rattaccare Però Poverino Eh vabbè Sono proprio forti qua Chi scegliamo? Direi cacchetta Eh sì Allora io vado con cascata Così forse lo facciamo fuori subito Sì Eee Tuono scioccolo va bene Proviamo Non ho affatto Ah paralizzato Quindi magari adesso col tuo colpo Nooo Ma come? Era paralizzato Nooo Cacchetta Sono ammazzati i Pokémon No Dio siamo messi male adesso eh Elettro Allora Provo con raggio Aurora Tu vai di gelo raggio Non tanto ma Dice che non è molto efficace Ma almeno l'hai congelato Bene Nooo Non tanto Nooo E' super efficace Nel mio Tugong Poverino Cavolo Questi Pokémon Qui sono davvero forti Sì Oh no Perché ho usato cascata Volevo cliccare il riduttore Ho scannato Eh sì eh Speriamo di farlo fuori subito Sì dai Ah Meno male Dobbiamo curare la squadra Sì Stiamo messi proprio male Vediamo se ne valsa la pena Passare di qua Hmm Lì c'era una ball Qua scendiamo giù Qui non si può passare Ora c'è solo questa ball qua Allora proviamo a scendere giù Speriamo bene va Hmm C'è qualcuno lì Attenta Dobbiamo per forza evitarlo Se no Questa ball qui Di perpozione Ma dove saranno queste chiavi Vediamo se riusciamo a evitarlo Non ti muovere Ma mi sai che non si può neanche passare di là Oh no Quindi anche questa è stata Maledizione Ehi lo vuoi sapere un segreto? Se sali su quella pedana laggiù Tornerai all'ingresso E non batti baleno Dovevamo parlargli da prima Infatti Qua giù siamo scesi? No E allora scendiamo giù Ok qua è un po' Questo nuovo quindi forse si stiamo Facciamo una porta Attenzione 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 Ah 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 L'abbiamo evitato Fango bomba Quello che usava Eh slime lo usava no? Allora Click click Si aprirà questa porta Ah no mi hai chiuso fuori Come? Aspetta vai il giro Passa qua Eccomi qua Piscina Mi hai ascoltato Poverino Sto per crollare Quindi dobbiamo andare dalla parte di su Aiuto Ferma Ferma Quando si gira da questa parte Devi girare Vai Per un pelo Non è che si è aperta questa porta anche Attenta a quello Ah qua forse si possono curare No Sì Eh viva Almeno curiamo un po' i pokemon Sì Meno male Attenta Dovrò schiacciare questo Prova Ok Ok ora cerchiamo di evitare Grande Qui c'è una pokeball Aspetta che vedo di ricomparire anche io qui Perché nel frattempo mi sono perso Caramella rara Ok forse siamo nella giusta strada Interessante È un grande contenitore costruito con del vetro molto spesso L'interno del vetro è ricoperto di segni Come se fosse stato colpito più e più volte Oddio tipo un pokemon è stato intrappolato dentro Stavano facendo qualche esperimento sui pokemon Poverini Devi searmax No vicino No adesso dovrebbe essere meglio A starnutito che carina Che cosa sono questi cosi sono super inquietanti Ma come ancora non siamo arrivati Che strana sta cosa Chiave segreta grande Sì Ce l'abbiamo fatta Stavo mi impazzendo qua dentro Stavo già pensando dove cavolo dobbiamo andare adesso Ok ora possiamo usare la nostra fune di fuga Non vuoi salvare prima Salviamo dopo Non ne abbiamo più queste fune di fuga Devo ricomprarle Meno male Ce l'abbiamo fatta Quindi ora possiamo andare direttamente nella palestra Vai Vediamo un po' Vediamo qual è il requisito Ehi aspirante campionessa In questa palestra Oh prima domanda Un momento signor Blaine Non è ancora ora Ah scusa Ora mi va via Cosa? Ehm il signore che ho appena visto è Blaine Il capo palestra dell'isola cannella E' uno specialista dei pokemon dei tipo fuoco Ad ogni modo sei stata brava a trovare una chiave segreta Ti sei guadagnata il diritto di affrontare questa palestra Vada bene Qui dentro non ti attendono solo lotte Dovrai anche rispondere a un quiz Nooo Spero che ti divertirai Un quiz Mi sembrava troppo facile Ah quindi siamo Oh che figo E' tipo uno show televisivo Allora In questo episodio Siamo riusciti a trovare L'isola cannella L'isola cannella L'isola cannella L'isola cannella L'isola Stavamo trovando Poi La chiave La chiave segreta Per arrivare alla palestra Quindi nel prossimo episodio dobbiamo fare questo quiz E sconfiggere Blaine Quindi questo episodio si conclude qua Clicca qua per vedere l'altro episodio di pokemon let's go pikachu O qua Per vedere dei sims Ciao Al prossimo episodio Ciao